Allora, cominciamo Messina Denaro, lei conosce tale Laura Bonafede? Laura Bonafede, Bonafede Ma onestamente il cognome qualcosa mi ricorda Su questo guardia non ci sono dubbi Insomma, la conosce oppure no? No, no, bella macchuzza, no, non la conosce Non la conosce Quindi lei è sicura di non averla mai incontrata, giusto? E certo signor giudice, se non la conosce non l'hai incontrata Perché se l'avevo incontrata vuol dire che la conoscevo Messina Denaro, non facciamo sarcasmo per cortesia Ma quale orgasmo, quale orgasmo signor giudice Che qua sono guardato a vista 24 ore su 24 Manco questo posso fare Senta, finiamola con questa sceneggiata, va Abbiamo prove inconfutabili del suo rapporto intimo con la Bonafede Registrazione video e pezzini che vi scambiavate assiduamente Ah, quella Laura Bonafede Quella, la maestra La maestra E perché non me lo diceva prima signor giudice che era la maestra Quella mi faceva ripetizioni provate a domicilio Ah, e che materia facevate? Sei illecito, eh? Lingua signor giudice, lingua E che lingua? Insomma un po' di contegno, Bonafede Messina Denaro Oh, Bonafede ma che cosa avete sentito tutti? Signor giudice E... Grazie a tutti